Sindaco, si sta per approvare il bilancio del Comune di L'Acquameno. Che tipo di bilancio è quest'anno per il Comune? Più che approvare il bilancio, L'Acquameno si sta chiudendo la maratona dei bilanci. Noi siamo stati costretti, tra virgolette, nell'ultimo periodo ad approvare 5 bilanci in 3 mesi. Il 29 sera, in prima convocazione, auspico, si possa chiudere anche il consuntivo 2016 e così si sono rispettati i termini che il Ministero aveva dettato al mio Comune. Alcuni l'hanno intesa nell'ambito del gioco delle parti parlando come bilanci approvati per la salvezza dell'amministrazione pascale. In buona sostanza si tratta di bilanci approvati nei termini per la salvezza del Comune di L'Acquameno. E sostanzialmente il dato che più è da evidenziare è che L'Acquameno passa finalmente da un disavanzo di 2 milioni e 3 ad un avanzo di bilancio di 800 mila euro. Questo significa da una parte che queste somme saranno destinate al dissesto e quindi il commissario liquidatore sarà messo finalmente nella concretezza di poter operare, avvicinare i creditori, istruire le pratiche e cominciare a fare questa attività. Nello stesso tempo significa che si allineano gli atti contabili alla vita dell'ente e questo è un bene e che quindi L'Acquameno può guardare al futuro, magari al sindaco che verrà dopo di me, come possibilità di tornare ad essere un comune normale. Fino ad ora ricordiamo infatti che il Comune di L'Acquameno è un comune in dissesto e quindi anche come spese deve essere molto attento e non può effettuare spese che esulino in qualche modo dall'ordinario. No, noi diciamo che questo è un limite ma nel momento in cui contabilmente abbiamo questa situazione noi possiamo gestire l'ente in un modo diverso. È evidente che questo passare dal disavanzo all'avanzo è dovuto alla possibilità che si è concretamente verificata di ridurre le spese e di aumentare le entrate. Le spese sono state ridotte naturalmente per quando attiene la spesa del personale. Le faccio un esempio, siamo passate da 1 milione e 4 del 2013 a 1 milione e 0,50 del 2015. Nello stesso tempo ho istituito da subito la tassa di soggiorno che rappresenta un'entrata in più rispetto al passato non potendo tra l'altro toccare le aliquide che già sono al massimo e queste minori spese e queste maggiori entrate hanno fatto sì da generare questo avanzo di amministrazione. I cittadini potranno sperare anche in investimenti sul territorio finalmente? Sì, noi stiamo già affrontando quotidianamente le difficoltà, le emergenze che abbiamo trovato dalla pubblica illuminazione al verde pubblico, alla manutenzione ma è evidente che questo ci consentirà di guardare al futuro nell'ottica di riorganizzarli definitivamente. Innanzitutto abbiamo fatto molte cose e queste cose sono già visibili ai cittadini. Quello che mi preme sottolineare è che in tutta questa passione, questo lavoro che stiamo facendo ci stanno credendo anche i privati che collaborano con l'amministrazione e molti altri privati hanno già investito all'acqua meno credendo evidentemente nella ripresa dell'azienda paese. Grazie. Grazie.